Stavo pensando... Stavo pensando di fare medicina, come mio papà. Oppure fare la giornalista, come mia madre. Anche se il mio sogno è fare il magistrato. Conoscere le piante. Pensare in grande. Viaggiare nel tempo. Aspetta, aspetta. Farmacia, chimica. Progettare robot. No, ho deciso. Grazie, mi sei stato di grande aiuto. Io comunque volevo dirti che... No, ho deciso. No, ho deciso.